Ma guarda io sono di là a fare le riprese Quindi abbiamo due angolazioni La Bipro? C'è la Bipro, sì Quindi abbiamo tattica, televisiva, tecnica Tutto quello che c'è Dovrebbe fare una squadra Ha visto, vedi, vedi, io conosco già le... Attacchi lo spinotto lì E non lo vi Ah, perché c'è tutto l'audio che non è il massimo Quindi il computer non lo serve No, no, serve, serve No, io non lo mica Ma gli aggiornamenti, cosa li fai? No, perché lì Allora non serve Serve perché si percage Ah, vabbè, quindi te lo lascio lì Lo metto qua all'ombra Grazie a tutti Grazie. 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 Il computer è dietro lì. Ma è già sulla... No, tol. Esca da lì. Ma io faccio... Lo metta sulla parte. Eh, giusto. E' aperta la paginata. E' aperta la paginata. E' aperta la paginata. Grazie. 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 Dove vuole Non puntare la porta Poi va sempre bene Non metterti proprio sulla linea Perfetto Grazie Grazie mille Grazie 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 Scusate È secca? È gara secca? Sono sei partiti Un giro, il giro e il quattro Uno, due, tre Forza barbare sé E' poli E' poli E' poli E' poli Grazie mille, è preventivo. 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 attacchiamo il primo palo attacchiamo il primo palo bravo Tava mi riesce più d'uno a me, d'uno bravo ancora, ancora, ancora ancora, ancora a me, a me, a me, a me a me a me, a me, 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 a me, a me a me, a me, a me, a me, a me a me, a me, a me, a me, a me a me, 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 a un'altra parte la toccata è nostra andiamo ad attendere la massa è nostra dai Olli viva punta Thomas punta ma perché Albert? perché? sei in confusione non mi stai tranquillo lei entra e gioca dai che hai in Albert? che riguardo? quando lui ti punta la palestra è diventata di un'altra coperta dai va bene va bene dai lì dai lì dai lì dai lì dai maghi dai maghi dai maghi dai maghi maghi se stavo in lontano mi riuscirete prima sì un passaggio là vai 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 dai vai 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 dentro Grazie a tutti. 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 Adosso, 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 vado. Coprila, coprila, coprila ancora. Lascia, 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 lascia. Vai, 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 prendilo! Ancora noi, ancora noi, vedo, ancora noi, ancora noi lì. Dai, dai, vai, 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 vai. Dai, vai, vai, dai, dai! vicino a baldi vicino a baldi la marca dietro albergo quando metti sul panno punta adesso sinistra è calcio, punta di più stai buttando fuoco, fidati di più di te stesso che c'è, noi prima che c'è, alza, alza alza forte vieni, vieni, albergo su, venga uno di noi su, dai sono palle sporche andiamo va bene, maco, maco va bene vieni sul 10, dai testa, testa, testa testa Non c'è paura, non c'è paura, non c'è paura. Non c'è paura, non c'è paura, non c'è paura. 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 Non c'è paura. Non c'è paura. Non c'è paura, non c'è paura. 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 Non c'è paura, non c'è paura. Non c'è paura, non c'è paura. Non c'è paura, non c'è paura. guarda fuori, guarda fuori, non c'è paura, non c'è paura. è paura. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , , a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. la... a tutti. 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 . . a tutti. 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 . a tutti. a tutti. . . a tutti. . . . . . . guardiamo la palla. . 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 Bravo. . . Vallahi. No. . . sta. Chiara, chiara! Sì, l'abbiamo letta male! L'abbiamo letta male! L'abbiamo letta male! L'abbiamo letta della palla stupetta! Vai Acopo! Diego, Benno, non c'è letta della palla stupetta! L'abbiamo letta della palla stupetta! Vai Acopo! L'abbiamo letta della palla stupetta! L'abbiamo letta della palla stupetta! L'abbiamo letta della palla stupetta! Concentrati, concentrati! L'abbiamo letta della palla stupetta! 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 L'abbiamo letta della palla! L'abbiamo letta della palla stupetta! L'abbiamo letta della palla stupetta! L'abbiamo letto della palla stupetta! L'abbiamo letta della palla stupetta! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.